astuzze sante fin da principio della permanenza di don bosco a torino si diffuse la fama della sua virtù e non poche famiglie andavano a gara per stringere relazioni con lui ora accadde che un giorno un'intera famiglia era venuta a fargli visita avidissima di ascoltare la sua parola don bosco al vedere la poca modestia nel vestire della signora e delle figliole e pur volendo toccarli al vivo rivolse tosto il suo discorso alla più piccina dicendole vorrei che tu mi dessi una spiegazione sì sì mi dica pure reverendo rispose la bambina fuori di sé per la contentezza dimmi perché disprezzi così le tue braccine io io non le disprezzo eppure sembra che sia così o tutt'altro prese a dire la madre se sapesse debbo sgridarla per la sua vanità oltre a lavarle le profuma con acque odorose appunto per questo continuava il santo sempre rivolto alla ragazza io ti dico che tu disprezzi le tue braccia e perché perché quando morrai le tue braccia saranno gettate a bruciare nell'inferno ma io non faccio nulla di male io all'inferno non ci voglio andare eppure sarà così o perlomeno al purgatorio e chissà per quanto tempo dunque questo avviso fa anche per me esclamò una delle più grandi arrossendo sì e le fiamme saliranno dalle braccia il collo e lo bruceranno ho capito concluse la mamma ho capito tocca a me mettere rimedio e lo farò da quel giorno molte altre volte quella famiglia fu a far visita ad un bosco ma sempre con vestiti compitissimi grazie 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 grazie